La squadra entra in campo con Stanghelini in tribuna che ci suggerisce le inquadrature del primo piano della squadra Ma scusate se hai fatto cacciare, a me lo tiro agli un pugno, no? A me lo tiro agli un pugno, ma lo sai, talmeno te lo riesci come si fai Questi sono i commenti dagli spalti Bevo Che è quello lì? Bevo Ma aspetti che il tuo inquadrature va subito Ma che sai che devo fare? A presto la multa e a presto il cuore Ma sai che devo fare? Vabbè, noi non ci abbiamo detto Ma perché ne vado? C'entra da quasi Fanno un po' di sticotto La foto La foto? Sicuramente fanno la foto e io non ci sono Ma che spiegato Ecco E' un'amica lì E' un'amica lì E' un'amica lì E' un'amica lì Bene, mancano un po' 2016 XX Sky è arrivato Sky 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 Sì, sì, sì. No, perché se tu lo salutavi, lui si vedeva che ti salutava. Eh, basta, è girato. Sperdi, quando io giumo posso creare la segnala cosa. Non è un grandissimo, però. Sì, 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 sì. Bene, i ragazzi entri in campo, sono pronti, concentrati. Sì, sì. Questa cosa c'è pure Mene e Tino, sto ex compagno di squadra. Il due menetti. Quattro, cinque, 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 lunedì. Io l'anno scorso ti ho detto, non so che si va. No, era Ruzzano. No, Ruzzano, Ruzzano. Sì, era Ruzzano. Ruzzano era la mia prima parte che ci ha fatto, che ha facciato male. Molte, sono in grado, un'altra. No, si chi giocava quello, no? No, non c'è che il dolcini non lo vogliono più mantenere. No, la testa è troppo calda. Ha detto che lo vogliono mandare con il 95 tempo e ne ha un Bevo Bevo perché è più tranquillo Sì, è vero, sì Oh, Bevo deve essere fortissimo Chi è questo? Chi è questo? Lo ricordate? È lui! Torna a novembre, torna Vai, negri! Eh? Cosa? Ah, ok Ne ho due No, non c'è Eh, ma non c'è Non c'è Bravo! Stato! Non c'è Dai, raga! Oh, c'è ancora... Ah, è quello l'altro, sai? Ciao! Lo vede, dove stai? Sì, ripeti lato Ciao, ciao Ciao, negri! Ecco la squadra e la tifoseria L'ultra, l'ultra L'ultra, Barbarò Stange Negri La panca La panca Vediamo come si mettono, ragazzi Sì Ciao, Mene! Sì, sì, inizio Ave! Mene, edis Dato! Ma il dato di qua ha dato? Sì Grande dato! 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 Eh no, è concentrato, è concentrato Dato è super concentrato Dato otto Vai, dieci Dai, Beppo! Dai, Beppo! Dai! Vai, Beppo! Vai, Beppo! Vai, Beppo! Vai, Beppo! Tranquillo, puoi scaricare? 8 Occhio! Occhio dove passi, eh! Dai, Luzia! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Lancilo, lancilo! Bella, Cri! Bravo! Vabbè, ok Non posso fare più niente, devo riprenderlo Vabbè, dai! Dai, lì! Dai, dai, prima! Dai, dai, prima! Bella, bella Simo, dai tranquillo! Va bene! mister sarsi va bene, va bene, tanto indifferente green bravo, parti Bebo parti Bebo bella green posto, arriva, arriva guardalo c'è Bebo davanti parti Bebo lo facciamoli giocare, disturbiamoli allargati Davide, allargati e tu a tuo dedo vai Bebo, parti bravissimo deciso, deciso Mario bella carta così, così va bene forza mister bravo carta mitico bravo Bebo non facciamoli giocare bravo Ale deciso Cristian, deciso ha saltato iniziamo bene vabbè stavo all'inizio 1-0 il centrale l'ha saltato completamente dai forza andiamo 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 chi più corre più corre ragazzi più fa dai dai ragazzi dai dai su guardate i 3 minuti potrà fare con noi potrà fare con noi invece non credo si vabbè perdiamo il 6-0 bravo Matteo tranquillo portiere tranquillo bravo facciamo girare la palla deciso nostra palla palla vai Costi benedice la palla col passaggio Costi dai che per no ragazzi su guarda guarda vai chi si batti vai mettile in mezzo bene vai avanti Cristian dove vai dove batte rigore con due rigore ma era meglio il mancino da là non il destro ce la fai di sinistro? no manco con il pesce a distanza a distanza prendila di testa Davide niente troppo lungo ma non potete puntare la porta no eh dobbiamo metterla a rientrare ma guarda di qua dai 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 ha toccato ha toccato dai 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 quant'è che è passato? ah non lo so lo dice a me sono fuori senno adesso dopo tre minuti e non so niente ma potrà fare anche noi il gollare? si purtroppo chi la butta dentro fa golla sento l'academe bravo Cristian così bravo raddoppio 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 bravo bravo Ale bravo Ale troppo avanti da vivo i centrali dove sono? no non butto spazziamola portiere ma non può andare avanti lui a scegliere la palla agli altri no? eh ma Barbo eh ma Barbo oh e non sa più non lo sconversiamo eh vai Davide dai ragazzi dai che ce la facciamo su dai 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 crea volo dai prima pressiamoli eh che si se la guarda era a mano però beve era a mano eh ma devi fermare lo stesso? si ok ti fermi? Barba qualità di capitano dai su su è una continua no? anche se lo chiedi dai guarda grande guarda oh spettacolo guarda andiamo finalmente facciamo già la difensore finalmente crediamoci 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 va bene va bene dai su su dai che ci siamo bravo Simone dai vedete dettagli il tempo dai dai bellissimo ancora ancora puntalo puntalo di qua di qua di qua di qua di qua di qua vai Simo tua! Bravi, bravi, va bene, continuate! Bravo, ok, ma vocazione! Dai, dai, dai che ce va a fare, su! E' strana buona occasione! Sì, sì, ma ce ne stiamo creando, più te ne credo, di più c'è gioco! Da che c'è Dato, c'è Dato, c'è Dato! Dai, Davide! No, ragazzi, tranquillo, benissimo! Allarghiamoci bene qui! Dai, Bebo! Salto! Dai, dai! Ma no! No, 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 che capita, ragazzi! Sì, sì! Va bene, dai! Giusto, giusto, giusto! Va bene! Fallo sul portiere, non so, dallo Miraccio! Vabbè, Bebo è stato fermo, però, non ha neanche saltato, Bebo! Sì, ma se ti vuoi divertire con il cartellino, allora! Ma chi è che ha munito? Ad Abba, è Bebo! Com'è che ha munito Bebo? Sì! E lui va a protestare, cioè, non dire! Che so? Sì, puoi munirlo se vuoi! Era da rosso, eh! Eh, ma perché, eh, ma ho capito! Gli ha dato rosso? No, era da rosso, gli ha dato spesso le gambe! Eh, ma che da rosso? Eh, sì, non puoi dire le gambe! Eh, non puoi dire le gambe! Eh, non puoi dire, Giulia! Non è te! Comunque era una pazzelletta! Era una pazzelletta! Era una pazzelletta, non era vero! Sì, ma Giulia non puoi dire lo stesso! No, non devi dire e non farlo! È come fare così! È come fare così! Sì, ma neanche il gesto devi fare! Sì, dai! Stai scrivendo i promessi sposi! Non vai fuori, non vai fuori! Dai, vai! Ma no, è già inizia! Iniziamo bene, però! Eh! Non perdiamo le staffe! Senti che belle le mani! Allora, dai! Sulla corsa, Davide! Va bene, capita, dai, su! Le mani! Le mani! Ma ancora non l'hanno capito che le mani non devono usarle! le mani! Sì, dai tempi dell'oratorio! Le mani sulle spalle sono sempre falle! Eh! Vedi? Quindi la munizia per da te! Sì, sì! Certo! C'è la prima cosa quella! Il resto del pochino! Fortiere, pigliela! Ok! Scusatemi, scusatemi! La voce! È una tonalità alta! Vai, vai, Dando! Vai, Dando! Vai, Dando! Vai, Dando! Bravo! Bravo, così, sovrappoliti! Si chiama Bebo! Eh, ma io pensavo a Dando, pensavo! Lui a Bebo! Bebo! No, l'altro! L'altro! Si prende la palla! A lei, attento! Bravo, suorcio! Così, dai! Attentivo! Bebo! Bebo, avvicinati! Ciao, la palla centrale! Bebo, avvicinati! Eh, è andata! Dai, dai! Gira, gira il campo, gira il campo! Continua a girare, attento! Anche su! Ritorna, ritorna, ritorna! Un po' di ritorna! Chi si stringi! Mamma mia! È andata di là, dico! Non ti ha meno affanno la sede, la sinistra! A destra! A destra! Un po' di ritorna! Un certo! niente spinta beccala bene sotto non ti girare col culo, non serve negri non puoi tirar tu, negri tira tu ma non carmi è uguale, basta che si sa tirare non è carmi donna che svircolata deve battere barba guarda, guarda è di misto quella va avanti è di misto quella si ma se non ci andava, è bello mio al volo, al volo spettacolo saltiamo tutti vai Simo ancora, ancora però chiaramente è difficile tutto al volo è ben controbato molto tardi vai Luca, vai Luca a cercare di farla lì vai uno, vai dentro angolo, angolo non puoi andare in porta eh Teto, vai via è arrivato un altro ecco Teto, uno dei mancanti ciao Teto oh Teto, stiamo perdendo sì, momentaneamente crediamoci crediamoci porca che si è affatto che se la fai di conto l'ultima bravo, bravo ancora, ancora grande carmine grandissimo costruiamo il gioco gira, gira, gira ma che cazzo fa lasciala, lasciala va bene va bene va bene ragazzi dai, proteggiamo la palla chiudi 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 dai ragazzi la palla una lepre una lepre ma che c'è bella mazza come corre più dei nostri ragazzi sì, veramente lepre in campo guarda lepre anche tu, guarda leprotto la velocità della luce vai 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 Simo ancora Simo ancora 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 non ti fermare ma dai chiediamo giusto ma subito dai via forza forza dedo sono in due dedo la cacciolla quello che chiamano il dedo chi? tu fida Dado Dado il dedo è mazza ha detto ma adesso c'è l'altra cosa no no sportiere è pronto su 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 tutti su parti Dado parti Dado vai Davide vai Davide vai aprigli il campo aprigli il campo Artel lo devi riconoscere tu Artel riconoscere tu bravo bravo va bene va bene va bene dai 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 Ale tu Ale bravo di Dado Tocchio Cristal aiutalo bravo di qua di qua Dado Cristal oi calcio d'aglio è abbia andata direttamente là mille volte la prendi non va mai così ora dove è andata decisi eh ragazzi come ha fatto in calcio d'agro d'agro eh in contropassa e era completamente da solo 2-0 e era completamente da solo ma non ne erano schierati c'è nessuno accento per quanto a calcio vanno da tanti punti vai ragazzi chi ha più golle? dai costi non so vai Dado tranquillo va bene dai a prendo dura ancora 45 minimo ambito tu Dado Cristal aiutalo capita capita dai dai e sperilo che così sia la forza ma lascia io tirare i difensori vai avanti Barbaro lascia i difensori no dai 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 vai dietro ma facciamo gioco ragazzi facciamo gioco aiutiamolo di qua è tuo che mina gli ha tirato e che tina gli è tornata non lasciamo schiaccialo Chris schiaccialo dai tranquilli tranquilli giocate giocate c'è Dado tranquillo bravo vai Dado non stare lì tranquillo bravo è tuo cazzo ha fatto un bel casino perché loro non avevano pure di entrare comunque ha creato un bel problema e poi è arrivato è riuscito pure a passare l'attacco cioè caparvio comunque anche perché comunque la non è che avresti grande non guardiamoli non guardiamoli non guardiamoli blocchiamoli non fare fallo bella 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 ancora cattrocina dai Andrea ma dai 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 uno uno di qua Dado largo no no cosa ha fatto? non ha anticipato? teniamo palla nessuno guarda 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 Cristi aiuta Cristian Cristi aiuta dai chiudilo ma ha fischiato? e si ha fischiato controlla ok non lasciamoli giocare non lasciamoli giocare aiutiamo 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 gira ancora ancora i passaggi vai 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 si si ho giuro mi sa cosa ti fate prova se era la mina mi sa che poteva pure entrare si 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 ma che caccia dici dai 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 provaci Silo provaci si ma no no non ha vinta dalla sua palla io non credo vabbè va bene va bene va bene va bene va bene niente noi dobbiamo spazzarla sempre non sciaccia a gioco si saluta noi non lo saluta non non metterlo qui ma certo lo metto vi devo insegnare che voi fate come giocate eh si dai dai si no figurati ogni partita insegna un attimo ma è è così no chiudiamoli chiudiamoli il piede dai 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 si si vuole ok così bravo puoi incruciare poi il calcio ma non lo riesci a prendere eh sei bravo è così la vita vuole prenderlo ma non ce la fa portierone lasciale ma vai vai Simo vai tranquillo ragazzi capita bravissimi dai bravo Simo bravo Bebo forza forza ragazzi arbitro cos'è che c'è che rombare? tranquillo ma perché devono parare in campo? non lo so se entrava quel tigol lì ragazzi era bellino dai Bebo vittiamoli occhio dove batte occhio alla schiena eh occhio alla schiena bello cosina mina ma prendiamola sta palla però ragazzi bravo Cri bravissimo ancora 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 vai ancora grande Cri così si fa dai lanciali è un fenomeno torna a casa che è meglio fenomeno lì lì di chi va bene non esagerare aspetta che scrive eh ciao caro quanto ha bebo? su Bebo eh glielo vinci la prossima quando lo mandano a casa uno tre dai che in tre è scavato chi dettelo? dai Simo dai Simo ancora così ancora dai oh 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 che carloia bravo Dato bravo Simo crediamoci dai hai avuto già due o tre palle ragazzo eh hai visto? dai Dato che sei vicino vai Dato crediamoci che ce la possiamo fare a pareggiare dai dai che la palla è nostra su aiuto subito palla a terra se possibile dai dai fuggiamoli fuggiamoli niente ma come entra male mamma santa occhio che tirano dai dai che è partito meno male che fanno anche loro le cagate ma si ma siamo tutti a quel livello lì non è che i gol l'ha fatto ma potevano fare anche noi cioè guarda bene se tu la vedi bene nella panetta potevano fare anche noi i gol eh le nostre sporche occasioni eh esatto non è che avevano spazzato il mondo vai vai ancora 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 vai 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 dai dai ragazzi attivi svegli dai simo si è perso anche la limoscia si da dietro sicura non davanti gira gira apri 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 aiuto chissà aiutalo ospio dentro bravo e quindi quando ti spendi quindi quando ti spendi vai forza ragazzi vai vai a parte vai a parte vai a parte vai a parte allargati davide in mezzo a parte e se ne va come ci va è bello il suo portiere bella 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 dai bella è tua aiuta ho dato deciso ancora 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 ti fermare bravo così so così grande visto vado dire che è sì ma ti muto in capo bravo vai dado salite salite dai pronti bella lunga bella lunga ok attento attento ancora Mario ancora dentro gira gira qui sano no ragazzi sono in due sono in due sono in due di qua dado dai dai subito sorprendilo sorprendilo il fuorigiocco carmine sali non stai troppo indietro siete tutti portiere portiere pronto portiere pronto grande grande tranquillo 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 vai andate 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 che lo devi dire cazzo allora ok ancora ancora si fermano dai vai Simo devi darci fino in fondo di crederci bravo bene su 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 che non ci credono la città non ci credono che bella la città no vai please i val please allargati Davide gira gira forti niente da fare dietro scarica ok ancora niente giro di qua niente non gira nessuno dai bella negri bellissima c'è dato c'è dato c'è dato c'è dato c'è dato non c'è ritirato lì è da solo vai ragazzi corsa non tutti però chiamate qualcuno indietro qualcuno sul secondo palo mi raccomando crediamoci crediamoci almeno uno almeno uno vai 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 no no eccoci ripresa ripresa bella negri la ora dai ricordiamo il terzo gol di negri e due autogol ripreso negri ci sei grande negri grazie di tutto ragazzi crediamoci dai crediamoci dai Simo dai fastidio bella così dai dai va bene dai tranquilli tranquilli dato il sette bravo Marte l'otto attenzione l'otto che c'è dietro chiudi chiudi vince il sette vai Marte vai Marte così vai parti parti lancialo vai vai dai dai dentro in porta c'è Dado c'è Dado c'è Dado c'è Dado al volo no a giù la parte la forza la forza va bene Dado fatti sempre vedere dai ragazzi che lancio dai ci prepariamo dai ragazzi guarda aiuta guarda aiuta tu bravo bravo tienalo fuori tienalo fuori bravo bravo dai dai Dado Dado ma chi Marco chi Marte scusate vai vai avanti puoi partire puoi partire vai vai occhio dietro vai vai parti Simo avvicinati wow che roba vai in aria vai in aria bellissima bravi molto bravi bene ragazzi dai Marte è bruttissimo dai Dado uno andiamo con gli coglioni ancora Dado bravo braccia aperte braccia aperte è tuo è tuo è tuo e si è fermato occhio dai capo il capo spettacolo di sberla in tribunale dai giù la tua devo finire primo tempo bella Dado chi sia tuo chi sia tuo che peccato ancora 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 non lasciamo portire non lasciamo portire portiere portiere bella Cri forza forza ancora qua nostra grande ancora ancora non facciamoli giocare butalo fuori ancora ancora su salite bravo ma che idea bravissimo bravi dai gata ma dai buttò in aria Davide no tira negri fai tirare negri vai in aria negri è uno che segno negri capo cannoniere è il capo cannoniere vai negri vai è roba tua ma no cosa ancora in mezzo va bene va bene capita capita ragazzi dai che ripartono ripartono dai va bene dai ragazzi che c'è possibilità dai bevo riscatati Chris 8 ancora 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 va bene dai fa niente era mano arbitro comunque te lo lasciamo dai vittà cazzo avanti all'area venga roba io sicuro però finché non entro ragazzi reattivi in difesa reattivi ma no adesso ci facciamo ci siamo portiere deciso fuori dai 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 non sembra che ci siamo indipendenti guarda ma no è stato grandioso si è ragione eh perché loro facciamo bene la palla noi non ancora crederci ma no ce l'ha ancora 10 minuti primo tempo finito sul 2 a 1 potevamo fare qualcos'altro grazie a tutti per la partecipazione questo è il pubblico inquadrato pagante lo vedete tutti i paganti i genitori tutti questi sono i salutini buonasera a tutti alla prossima